Ciao a tutti gli amici di Udab qua a Siracusa con Valentina Favazza al premio Torina Colla. Ciao a tutti. Che ci facciamo qua, Valentina? Cosa farai oggi? Ci divertiamo in primis e poi speriamo di passare una bella serata, ci saranno delle premiazioni e ci sarà una bella serata. Buongiorno, sei in giuria, giusto? Sarò anche in giuria. Ok, ciao Valentina. Ad ora.